salve e benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi oggi madonna oggi ma tu guarda un po come parlo oggi vi voglio spiegare cos'è popular investor e come possiamo utilizzarlo in nostro favore e come fare un guadagno extra con questo questa è la mia meta a cosa voglio arrivare adesso in itoro perché la verità ho fatto tanti calcoli studi e ho visto che posso aprirmi una società si può dire di investimenti senza dover avere neanche nessun tipo di licenza perché tutta la licenza ce l'ha itoro cos'è il popular investor adesso ve lo spiego e penso che è geniale itoro è stato pioniero penso che si dice così in italiano è stato il primo a fare in il trading sociale gli investimenti sociali sarebbe se ti piace qualcuno come investisci investisce puoi copiarlo e se qualcuno viene copiato può diventare un popular investor un invest un inversore popolare come come si utilizza cos'è e cosa si può guadagnare come vi ho detto popolare investo sarebbe più gente mi copia per esempio a me che è quello che voglio diventare un popular investor itoro arriverà un punto che comincerà a pagarmi per mantenere voi dentro itoro e farvi guadagnare soldi questo sarebbe il popular investor è una cosa geniale la verità mi piace tantissimo qua ve lo dice se un investore popolare guadagna un 2 per cento di commissione annuale può guadagnare quando arriva all'ultimo livello per esempio se mille persone mi stanno copiando in totale ci hanno 10 milioni in totale tutte le mille persone copiandomi io guadagnerò 200 mila dollari all'anno soltanto per quella gente copiarmi se arriviamo a quel livello bellissimo immagini ogni anno prendo i 100 mila e reinvestirli in borsa sai quanti soldi si farebbero però vabbè questi per adesso sono sogni più avanti vediamo se arriviamo adesso cos'è e i livelli che ci sono del popular investor come vi ho detto la gente vi copia e voi potrete cominciare a guadagnare soldi il primo livello è il cadetto il livello cadetto dovrete avere voi nel vostro conto prima di tutto 500 dollari investiti dovete essere responsabili sarebbe che il vostro livello di rischio sia molto basso il minimo di copiatori dovreste averne uno e il minimo della gente copiandovi deve essere 200 dollari giusto quello che serve per uno il minimo per fare una copia sono 200 dollari perciò sarebbe giusto e dovete aver mantenere questo livello per almeno due mesi dopo questo livello che già vi apparite nella zona del marketing di itoro dove vi spiegano i migliori investiti investiti i migliori trader scusate dove parlano i migliori trader apparete anche voi il seguente livello il rising star già diventa essere interessante dovrete avere almeno voi investiti dei vostri soldi mille dollari sempre un trading responsabili perciò non fate troppo rischio delle operazioni copiatori almeno dieci persone vi devono copiare e il minimo minimo dieci persone ho detto e possono essere anche di più fra tutte le persone copiandovi che vi stanno copiando dovrebbero avere un totale di tutte le persone copiando in soldi di 40 mila dollari l'anno e il livello il tempo minimo per passare livello deve essere sempre due mesi da mantenere e cosa vi fa itoro in questo caso vi pagherà mensualmente 500 dollari cosa potete fare con quei soldi quello già dipende da voi ma io personalmente quei soldi li riprendero li investirò e così farò crescere il mio conto molto rapidamente questo è l'idea che c'ho su come farmi il negozio in itoro seguente livello il livello champion il campione e dovrete avere investito al minimo 5000 dollari perciò vi servirebbero dieci mesi nel livello rising star e automaticamente itoro vi darà i soldi per arrivare a 5000 questi 5000 dollari poi tra il responsabile minimo dieci copatori e in totale tutta la gente copiandovi deve avere minimo 150 mila dollari investiti in voi allora sempre domandamente per due mesi in minimo cosa vi darà itoro vi pagherà 1000 dollari al mese questa volta sono 1000 dollari al mese immaginate reinvestire 1000 dollari al mese sono 12 mila euro l'anno reinvestiti allora se voi prendete questo più il letoro partner più i soldi che fate voi negli investimenti direttamente tutto questo insieme vi fa crescere il conto rapidamente adesso viene il livello più interessante che speriamo io sono sicuro arriverò questo livello in un anno sono sicurissimo ci credo dai il minimo che dovete avere investito sono 20 mila a 1000 20 mesi e avete 20 mila perciò tranquillamente e copiatori se ne stanno copiandovi è importante che però i soldi che abbiano investiti in voi siano superiore a 500 mila dollari sarebbe il totale di tutta la gente copiandovi e mantenerlo per due mesi cosa vi daranno vi darà sempre 1000 euro al mese però in più il 2 per cento del totale del aum sarebbe i soldi che hanno tutti messi insieme il 2 per cento nel caso di sopra che aveva detto che 10 milioni vi dava 200 mila euro all'anno 200 mila dollari all'anno per mantenere i vostri copiatori che fate se voi prendete quei soldi e rinvestite immaginate a che velocità potete arrivare ad un milione che il minimo che uno dovrebbe avere investito in borsa perché perché soltanto con i dividenti con mi e un milione di dollari farete attorno dagli 70 ai 100 mila dollari l'anno con dividendi soltanto perciò il vostro conto potrebbe crescere rapidissimamente questo è il mio la mia meta quello che voglio fare è il negozio che io voglio aprire come volete vedere se mettete insieme popolare investor e tono partner e il vostro investimento mentre lavorate tutto insieme fare tutto insieme se volete già nel livello champion vi potete anche ritirare di lavorare e lavorate soltanto con questo con mille dollari al mese già state vivendo però non lo fate ancora meglio che rinvestite questi soldi e arrivate all'elite così si uno potrebbe già vivere di questo dai spero vi sia piaciuto il video se vi piace schiacciate like commentate se avete qualche dubbio sospettate il canale se non vi siete ancora iscritti e soprattutto condividetelo dappertutto su itoro su facebook su youtube condividete questo video dappertutto così riuscirò a far crescere il mio canale più velocemente mi farò pagare da youtube farò pagare da itoro e faccio diventare questo conto gigantesco e spero che nello stesso tempo che io faccio crescere il mio voi cresciate con me dai molte grazie ciao alla prossima